Ben trovati in questo nuovo video, sono sempre Mike Zillo di Amica Borsa. Nei tre video precedenti siamo andati a vedere come creare il proprio piano d'accumulo in criptomonete, come farlo operativamente, il perché io ritengo intelligente farlo e in seconda battuta quali monete siano un po' oggetto della mia attenzione in questo momento, quindi su quali monete mi stia concentrando per l'accumulo in questo periodo. Capito come si mantengono le criptomonete sul medio periodo, ho scelto di iniziare un altro percorso di video dedicati al trading sulle criptomonete. In questo percorso andremo a trattare abbastanza argomenti, quindi dalla gestione della posizione, a quali mercati ritengo più interessanti e perché, come utilizzare alcuni strumenti grafici del trading, faremo a volte delle analisi, pubblicherò direttamente delle mie analisi in cui andrò a spiegare come e perché andrò a prendere certe posizioni magari sul mercato e andremo quindi a vedere quali indicatori utilizzo, però sempre un approccio molto soft alla materia perché voglio condurre mano a mano proprio le persone che ritengono anche le criptomonete un argomento abbastanza spinoso, controverso, anche di dubbio gusto certe volte, condurre mano a mano in questo percorso che nell'ambito delle criptomonete non prevede solo un aspetto speculativo come quello del trading, ma proprio un aspetto anche tecnologico come la blockchain e un aspetto imprenditoriale come tutte le start-up, tutte le aziende che si stanno basando sulla blockchain e che stanno nascendo e si stanno sviluppando proprio in questo periodo. Il primo argomento di cui voglio parlarvi oggi è il calcolo del profitto. Mi immagino che nel trading tradizionale, quindi immagino il forex in questo momento, le persone che come me magari risiedono in Europa e hanno come valuta corrente l'euro, utilizzino l'euro come controparte, chiamiamolo come denominatore, quindi se si va a prendere una posizione nei mercati del forex l'obiettivo è quello di aumentare il proprio controvalore dei portafogli in euro. Quindi se parto con 1000 euro, alla fine della posizione auspico, si spera, di avere 1000 più qualche euro, quindi un profitto percentuale superiore, quindi un profitto in controvaluta euro. Nelle criptomonete non è così scontato secondo me perché abbiamo la possibilità di far trading contro bitcoin, quindi soprattutto altcoin contro bitcoin, abbiamo la possibilità di fare trading ethereum contro bitcoin oppure altcoin contro ethereum, ma abbiamo anche la possibilità di fare il trading bitcoin contro USDT, United States Dollar Tether, che è una stable coin che è vincolata al valore di un dollaro americano. Abbiamo poi mercati ethereum contro USDT e tanti altri mercati contro USDT. Addirittura abbiamo anche ormai tantissimi mercati su cui sono disponibili i futures e quindi anche dei mercati in leva che possiamo trovare facilmente tramite il mercato, tramite il menu a tendina di Binance. Quindi come calcoliamo il profitto sulle criptomonete? Basta mettersi d'accordo. Allora, io personalmente utilizzo il bitcoin come controvalore, come controparte e come denominatore, lo chiamiamo, perché oltre a essere uno speculatore ovviamente sulle criptomonete mi reputo anche comunque un believer, quindi una persona che crede nella tecnologia delle criptomonete, personalmente seguo lo sviluppo di alcuni progetti in questo campo appunto della blockchain e delle criptomonete, quindi di fatto il mio obiettivo con il trading è quello sì ovviamente di aumentare il valore dei miei portafogli in valuta corrente con cui magari mi mantengo. Però è sempre anche quello di aumentare il suo controvalore in bitcoin, quindi se faccio un profitto contro bitcoin sono molto contento, se faccio un profitto contro il dollaro sono abbastanza contento. Perché faccio questa distinzione? Un paio di mesi fa, mi viene un po' da sorridere a pensarci, un paio di mesi fa quando bitcoin stava pompando abbastanza bene, quindi aveva un ciclo di crescita abbastanza interessante che è partito di fatto dagli inizi di gennaio del 2020 di quest'anno, mentre parlo, da inizio gennaio fino a un culmine arrivato in zona 10.000 dollari. Allora, nell'arco di questo inizio, questi primi tre mesi di anno, bitcoin ci ha già regalato un'escursione al rialzo dal minimo, da inizio anno al massimo, quindi senza tenere conto del minimo, del nuovo minimo di marzo, quindi dal minimo di gennaio fino al massimo registrato in zona 10.000 dollari ci ha regalato circa un 53% di profitto, come vedete qua a schermo. È una schermata che ho preso a trading view, se volete semplicemente potete controllare sul mio videocorso come utilizzare trading view al meglio e come implementare le proprie idee poi su Binance. Detto questo, comunque quello che volevo significarvi era proprio questo. Se dall'inizio dell'anno bitcoin ha registrato un aumento del 52% o 53%, insomma all'incirca, è normale che se noi non siamo dei trader completamente sproveduti il nostro portafoglio, il nostro controvalore in dollari sarà aumentato sensibilmente. Il fatto è che non possiamo basare la nostra propaganda, il nostro marketing, sul propagandare il fatto che il nostro conto ha perso magari il 12-15% di controvalore in bitcoin, ma comunque abbiamo guadagnato il 35% di valore in dollari. Sono numeri esemplificativi, ma per farti un'idea dei ragionamenti che secondo me fanno i trader un pochino non troppo avveduti in questo settore, che magari con la matematica non hanno ancora un buon rapporto. Perché vi dico questo? Perché se noi scegliamo di fare trading contro bitcoin e di accumulare bitcoin, allora il nostro profitto potrà semplicemente essere calcolato e solamente essere calcolato tramite un aumento o l'eventuale decrescita del nostro controvalore del portafoglio in bitcoin. Se il nostro controvalore in dollari aumenta, beh è una causa, scusate, è una conseguenza, è semplicemente un collaterale. Se bitcoin aumenta un bel po' di valore, molti altcoin non perderanno troppo valore contro bitcoin, anche le altcoin aumenteranno di valore contro il dollaro e quindi di fatto il nostro portafoglio sta aumentando di valore contro il dollaro. Ma se io ho scelto di fare trading per accumulare bitcoin e ho un meno 15% in bitcoin, anche se ho un 35% contro il dollaro, questo risultato, ahimè e ahi loro, non vale assolutamente niente. Quindi io non metto in dubbio che ci sono dei gruppi di trading molto interessanti in Italia e non solo, però bisogna essere un pochino onesti intellettualmente nel dire le cose come stanno. Quindi quando anche le persone che hanno visibilità del trend del mio conto sanno molto bene che io trado contro le criptomonete, quindi il mio collaterale, il mio denominatore, sono le criptomonete stesse, in particolare io su uno dei conti faccio trading contro Ethereum e quindi io so che se faccio trading contro Ethereum non mi interessa che Ethereum vada a 250 dollari, a 800 dollari, non mi interessa, mi interessa che il mio conto abbia un controvalore sempre crescente, si spera, sempre crescente in Ethereum. Quindi il valore in dollari è bello, ci dà, magari ci fa, ci ringalluzzisce un pochino quando vediamo che comunque stiamo facendo un lavoro, stiamo accumulando criptomonete, stiamo accumulando criptomonete e poi queste criptomonete iniziano a crescere anche come controvalore in dollari. È bello perché un po' di gratificazione la dà, ma non è quello che dovrebbe essere il risultato di un trader che ha scelto di utilizzare come controparte le criptomonete. Quindi questo per dirvi cosa, questo video ho scelto di farlo ispirato sia da questa scena che mi è capitata un paio di mesi fa, sia dal fatto che prima di essere inchiusi in casa, insomma durante questa quarantena durante la quale peraltro sto lavorando comunque un sacco perché il mercato delle criptomonete sicuramente non dorme perché comunque è un mercato che lavora 24,7, 365 e 366 i business stili. Prima della quarantena con un amico eravamo a Verona in un bar e mi chiedeva appunto come calcolare il suo profitto ed era un pochino combattuto sul fatto che non capiva come calcolarsi il profitto visto che certe operazioni faceva contro il tether, certe altre contro il bitcoin e ogni tanto aveva anche degli aumenti di capitale perché comunque lui in maniera disciplinata sta facendo una prima parte di accumulo statico, quindi per il medio periodo, un'altra parte di accumulo dinamico, quindi in maniera del trading, tramite trading. Lui in maniera molto umile e onesta mi fa, Mike ma secondo te come faccio a capire se sto guadagnando se non sto guadagnando? Ho detto guarda il segreto sta nel scegliere il tuo collaterale scegli, battezza il tuo collaterale e sfruttalo, quindi cerca di fare profitto contro quel collaterale perché ripeto, se bitcoin sale e il tuo conto sale, se bitcoin sale contro il dollaro scusate e il tuo conto sale contro il dollaro non vuol dire assolutamente che tu nel caso avessi scelto amare bitcoin come controvalore, come collaterale, tu abbia veramente un controvalore in crescita e quindi un reale profitto in caso di bitcoin. Quindi primo insegnamento del video che voglio trasmettermi, primo insegnamento che voglio trasmettermi tramite questo video è proprio quello di scegliere ed essere onesti con voi stessi perché nel forex in altri tipi di trading si può avere un profitto in euro perché semplicemente la posizione si compra in euro e si rivende in euro. Nelle criptomonete la posizione si può comprare in dollari, si può rivendere in bitcoin, si può ricomprare in ethereum, si può rivendere in syndicator, si può ricomprare in ripple, si può rivendere in dron, quindi c'è un continuo magari sul seguirsi di collaterali e di controparti di criptomonete. Quindi quello che fa la differenza è la nostra onestà intellettuale ragazzi perché potete venirla a raccontare a me che fate un certo tipo di profitto, potete andare a raccontare anche ad altre persone che siete in un enorme profitto percentuale sul vostro conto, però in verità alla fine del mese o dei tre mesi, ogni periodo insomma con cui scegliete di monitorare e di pagarvi gli eventuali profitti del vostro conto è vostro, cioè dipende solo da voi, quindi potete mentire agli altri ma sicuramente non potete mentire a voi stessi. Quindi se avete un conto che è in perdita contro bitcoin, che è il collaterale che sceglievate utilizzare come controparte per misurare il profitto, probabilmente in quel periodo lì il vostro risultato economico potrebbe essere assolutamente non soddisfacente per le vostre tasche. Quindi il consiglio che voglio darvi è siate onesti con voi stessi, scegliete una controparte e tenete quella, tenete sempre solo quella, dopodiché cercate di massimizzare i vostri profitti trovando anche eventuali modelli, non necessariamente matematici, ma alcuni modelli che possano aiutarvi sia nella gestione della posizione, sia nella gestione della vostra parte di analisi, la parte analitica ovviamente della posizione e quindi in seguito possono portarvi a un profitto sempre rispetto al collaterale da voi designato. Per questo video è tutto, lasciate un commento qua sotto, quindi oltre a questo video ovviamente ne vedrete altri sul trading, ma accetterai molto volentieri suggerimenti da voi, critiche, commenti, qualsiasi cosa, purché costruttiva, qua sotto in modo da regolarmi anche per i prossimi video e accettare ovviamente i vostri suggerimenti per valutare gli altri argomenti a trattare. Un caro saluto, buon lavoro a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!